Propongo questa lettura integrale in forma di audiolibro di questa breve opera di Dürer Mat, Il giudice e il suo boia. Brevi note di presentazione in modo tale da capire che non si tratta soltanto di un noir giallo scritto così, ma che ha una profonda anche radizia filosofica che Dürer Mat di solito dichiara anche apertamente nei dialoghi che si svolgono nei suoi romanzi. Alcune caratteristiche. E tra queste la costruzione del romanzo. Si sente in questo romanzo la vena drammaturgica di Dürer Mat e quindi anche la costruzione dello stesso, il montaggio con caratteristiche di teatralità. Una costruzione dei personaggi che sono anche molto caratterizzati. È un libro che va letto almeno una seconda volta, perché la prima volta si incuriosisce, si incuriosisce lo svolgimento dei fatti. E si arriva poi a un vistoso colpo di scena finale, come abbastanza è caratteristico dei gialli. Questo colpo di scena finale poi ci apre tutto a una lettura in chiave nuova. Rileggerlo sotto questa nuova chiave ci fa preoccupare questa seconda volta non tanto più della trama e quindi dello svolgimento dei fatti, ma ci fa entrare più approfonditamente nello specifico della scrittura e quindi anche nelle peculiarità stilistiche di questo libro. Ci fa capire come le tracce vengono poi messe punto per punto, di volta in volta, come la costruzione sia meticolosa. Ci sono anche alcuni momenti di descrizione paesaggistica, forse anche per alleggerire così il peso della trama e dei dialoghi. Ma Duremat poi ci pone anche nei suoi dialoghi anche la questione fondamentale, cioè ce la dice, ce lo dice qual è l'elemento primo di riflessione, anche filosofico insomma, che sta dietro la trama di questo romanzo, insomma, quindi il nucleo al quale ci dobbiamo rivolgere per capire il tutto. Ed è la questione un pochino del male, la questione del male e del bene, che giustifica lo scontro iniziale e quindi la scommessa in gioco che si mantiene per 40 anni tra i due protagonisti. La questione è questa, criminale e giustizia. L'imperfezione umana gioca più un ruolo dalla parte della giustizia o dalla parte del delinquente. Questa è la scommessa che fanno i due personaggi. Questa imperfezione umana permette l'errore da parte del delinquente e quindi rende possibile la cattura o il riconoscimento del delinquente. Oppure questa imperfezione umana gioca a favore del delinquente che riesce a sfuggire e quindi riesce in qualche modo a raggiungere il delitto perfetto. Da qui parte un conflitto tra questi due elementi e questi due personaggi chiave del romanzo. L'altro elemento è la diabolica provocazione dello spirito da parte dello spirito. La tentazione al male che trascina a delitti sempre più audaci, non per l'aspettativa di avere da questi delitti un riconoscimento in potere, oppure in denaro, oppure in donne, ma commessi così, senza senso, perché nell'individuo o in un individuo, in uno dei protagonisti di questo romanzo, sono possibili due cose, il bene ed il male. Ed è il caso a decidere tra i due. Quindi un uomo si può trasformare in criminale anche soltanto perché il male rappresenta la sua morale e la sua filosofia e fa il male con un fanatismo pari a quello con cui un altro intenzionalmente può fare il bene. E quindi il male non è l'espressione di una filosofia o di un impulso, bensì della libertà, anche se una libertà del nulla. E queste cose vengono dette esplicitamente nei dialoghi che Buremat crea all'interno di questo romanzo. Da questa proposizione, da questa scommessa che i due fanno 40 anni prima, da questo rapporto, da questa scommessa nasce poi un gioco continuo di caccia col topo, una sfida. Uno dice sono in grado di commettere il male, sono in grado di commettere un delitto. Tu mi vedi ma non puoi perseguirmi tu, poliziotto, non puoi perseguirmi per questo delitto perché io ti frego sempre. E l'altro prosegue invece nella sua caccia e lo aspetta e farà in modo di punirlo, farà in modo di perseguirlo, non per un delitto vero, visto che lui ne ha commessi tanti, ma per un delitto che lui non ha commesso. E per questa azione si serve di un boia e ne approfitta di un fatto, e ne approfitta di un fatto che è poi la radice della trama su cui si sviluppa questo romanzo, che chiama in gioco un altro personaggio, un altro giovane poliziotto che indaga ed è chiamato ad indagare sull'omicidio di un tenente di polizia. Una volta cominciata questa caccia del gatto con il topo, non sarà possibile fermarla fino a questa conclusione finale. Si crea un gioco, si crea una partita che non è più possibile abbandonare. E in realtà i due protagonisti di questa partita sono entrambi colpevoli. Uno perché l'ha proposta e l'altro perché l'ha accettata. E allora il gioco è non sono riuscito a punirti per i delitti che hai commesso, ma pagherai per un altro delitto che non hai commesso. Per il boia si svolge invece un'altra partita che è più una partita a go, diciamo così, in cui più che non l'aspetto strategico prevale l'aspetto tattico. Ecco, allora questa è la chiave secondo la quale leggere questo libro o ascoltarlo, se avete voglia di ascoltarlo. E una volta arrivati poi alla conclusione, ci si arriva facilmente nel giro di tre ore, tale è la durata un po' meno di tre ore della lettura del libro, poi il piacere è di riprenderlo e, alla luce di quanto si è saputo nel finale, andare a rivedere passo dopo passo come è stata costruita la storia, come è stato il montaggio di questa storia e quindi come si muovono i personaggi. E quindi arrivare attraverso questo lavoro a una lettura più approfondita, cioè a metterci nei panni dello scrittore e a capire come lui riesce a dar corpo, a dar vita a questa idea e a renderla viva, concreta, usando un linguaggio anche scarmo, essenziale, senza mai disperdersi in giochi retorici, ma con un ritmo molto serrato, che è tipico del giallo, insomma, che ci crea una suspense continua, però mai banale, con un'idea forte di fondo, che poi è un'idea che troveremo anche in altri lavori, anche teatrali di Duremat, questo gioco. È un gioco che poi lega i personaggi di un vincolo profondo, quasi indissolubile, finché non arriva all'epilogo finale.